Amici di Android Blog bentornati, oggi recensiremo il Samsung Galaxy Tab 8.0 che è un dispositivo appunto da 8 pollici che fa parte della famiglia Note quindi presenta un pennino che appunto è una delle caratteristiche principali della famiglia Note vi faccio vedere subito un veloce unboxing, cosa troviamo all'interno della scatola a parte qualche scartoffia troviamo il caricabatterie da muro che non è presente al momento e un cavo USB e micro USB condiviso assieme al caricabatterie per sia caricare il dispositivo che scambiare i file con il PC prendiamo la scatola e la mettiamo da parte, prendiamo il Samsung e vi faccio vedere subito quali sono sia le specifiche tecniche e le specifiche fisiche le dimensioni sono 21 cm x 13 cm, spessore veramente molto ridotto, soltanto 8 mm frontalmente troviamo oltre il logo Samsung il sentore di prossimità e la fotocamera VGA i tre tasti di cui due soft e uno fisico, caratteristico di tutti gli ultimi Samsung lateralmente a destra troviamo il foro per la riduzione dei rumori, il tasto di accensione e spegnimento il bilanciere del volume assieme alle porte infrarossi che ci permetterà di controllare i televisori qui troviamo l'incavo per la penna, penna che verrà inserita in questo modo sotto troviamo invece i due speaker stereo che ci garantiscono una qualità audio veramente ottima il foro per la micro USB, mentre a sinistra troviamo soltanto l'incavo per la micro SIM micro SIM perché appunto è espandibile fino a 32 GB mi pare questa qui è la versione Wi-Fi da 16 GB, quindi abbiamo 16 GB all'interno posteriormente troviamo soltanto la fotocamera da 5 megapixel che giravide in HD quindi non full HD senza flash LED però ha presente l'autofocus e nient'altro, iniziamo subito partendo dalle specifiche tecniche il dispositivo quindi ha un, come ho detto prima, un display da 8 pollici con riduzione di 100 pixel diciamo superiore all'HD quindi 1080x800 di cui ve ne parleremo dopo, un processore quad core Exynos 4412 o 4412 come volete, quad core con un clock da 1.6 mentre la RAM è da 2 GB iniziamo subito dal display che è veramente molto bello questa qui è la schermata di sblocco come potete vedere ci torniamo, scusate sono presenti i vari tiles ciò significa che abbiamo una versione di Android Jelly Bean superiore alla 4.2 quindi abbiamo la 4.2.2 aggiornato tramite appunto file ufficiale Samsung iniziamo subito dal display apriamo l'applicazione display tester attendiamo 5 secondi ok come potete vedere, come dice qui abbiamo un'esoluzione pari a 800x1280 con una densità di pixel per pollice pari a 213 pixel che non è il massimo su un 8 pollici ma comunque ci possiamo benissimo accontentare qui abbiamo altre informazioni li siamo subito con tutti i colori questo qua è il rosso il bianco come vedete è perfetto uniforme, senza nessuna sbavatura il nero molto profondo ok andiamo veloci qui abbiamo tutti i colori blading test non abbiamo nessuna imperfezione sui bordi questo qua e la saturazione del nero molto importante ok facciamo adesso come sono gli angoli di visione mettiamo l'osità adesso nella fotocamera ovviamente non capirete molto però vi dico che non sono il massimo gli angoli di visione perdono di luminosità però i colori rimangono intoccati queste qua sono le foto di test aumentiamo la luminosità come al solito come potete vedere il display è veramente molto bello il display è veramente molto bello torniamo sul nostro banco di lavoro usciamo e vi facciamo vedere subito come si comporta il browser web la troviamo all'interno allora un attimo vediamo se riesco a trovarlo il browser stock che non riesco a trovare dove sei? no scusate ecco il dispositivo si è impuntato succede sempre nelle recensioni vi assicuro che di solito non succede mai ah era Yurt che si è bloccato il dispositivo mentre cerco il browser eccolo il dispositivo è veramente molto fluido cioè non teme rivali nel campo android soltanto forse il Nexus 7 2013 ma è un dispositivo più ricente rispetto a questo comunque vi faccio vedere subito il browser questo qua è il nostro sito web che è già stato caricato e andiamo dentro l'articolo vi faccio vedere come si comporta ovviamente tutto andrà in base alla vostra connessione in quel momento la nostra connessione non è una delle migliori comunque il sito si carica è caricato abbastanza velocemente un attimo che ha qualche problema di impaginazione ok vediamo se sono i commenti vi faccio vedere come funziona la digitazione del testo nel browser avete visto anche come funziona la tastiera non ho fatto nessun errore perché la previsione del testo funziona bene quindi automaticamente lui corregge le parole è veramente molto fluida abbiamo anche presente anche qui la tastiera android che è quella che preferisco su tutti i dispositivi perfetto perfetta vi faccio vedere un po' come funziona quindi adesso vi faccio vedere il browser vi faccio vedere come funziona la penna penna che allora è un po' più grande rispetto a quella del samsung galaxy note 2 ovviamente è presente un tastino un tastino che tenendolo premuto effettuando ad esempio un cerchio ci farà scusate chiudiamolo ok effettuerà ad esempio uno screen uno screen soltanto in quest'area che noi potremo salvare condividere con gli amici oppure modificare mentre se noi invece terremo premuto senza muoverci lui effettuerà uno screen che noi ad esempio possiamo andare a modificare e poi eventualmente condividerlo con i nostri amici faccio adesso este note este note che è appunto il client fatto da samsung che gestisce la penna penna che è capacitiva quindi supporta anche il display è un wacom quindi supporta diciamo vari livelli di pressione vi faccio vedere subito come funziona qui abbiamo vari moduli dobbiamo prendere una nota allora è possibile appunto scrivere normalmente vi faccio vedere adesso con un pennello tutte le impostazioni possiamo aumentare la dimensione i colori adesso noi mettiamo la dimensione un po' più piccola come vedete supporta la pressione leggero e poi quando premo di più la penna ok vi faccio vedere adesso come si comporta appunto la vabbè qui abbiamo un strumento gomma con cui possiamo cancellare noi cancelliamo tutto e allora qui abbiamo altrimenti ho le forme vedete esce questo pop up perché non toccando il display come vedete senza segno che noi tocchiamo il display lui lo non questo non lo perché ok qui senza segno di toccare il display lui riceve il segnale e ci permette ad esempio di leggere qualche anteprima e vi faremo vedere adesso come si comporta invece dal punto di vista multimediale andiamo a prendere subito un video vi faccio vedere come scorre bene presente come vedete l'autofocus e vedete l'autofocus durante i video gira video abbastanza buoni dal punto di vista della musica andiamo a attivare il nostro file di test insieme al volume e l'audio è veramente molto buono grazie appunto agli altoparanti stereo che ci permette di avere un audio corposo di alto livello andiamo subito a vedere rimanendo sempre nel contesto del parte multimediale togliamo la fotocamera scattiamo una foto scatto come vedete molto veloce qui abbiamo tutte le impostazioni e qui vi aggiungere qualche scatto effettato con questo tablet ops vedete veramente molto buoni il pc zoom funziona veramente molto bene vi faccio vedere subito come si comporta un qualche gioco abbiamo asfalto aperto in background la gpu si comporta veramente molto bene il gioco gira veramente molto fluido tenendo sempre tutte le applicazioni aperte in background vi faccio vedere un po' come gira l'interfaccia quindi i 2 gigabyte di drum sono veramente ben sfruttati e il tablet è anche ben ottimizzato vi volevo parlare della batteria batteria che è una 4600 mAh che ci consente un utilizzo medio l'utilizzo che possiamo fare di questo tablet è più business è un tablet più dedicato al gaming o alla navigazione web sessioni di lavoro intenso ad esempio scrivendo oppure modificando qualche file con office qui abbiamo qui con office comunque riusciamo riusciti a farlo intorno alle 5-6 ore non usandolo anche due giorni non usando il suite ma anche due giorni la batteria riesce a reggere perfettamente è presente inoltre S-Voice che è appunto un assistente vocale by Samsung ad esempio io faccio quali sono le quali sono le previsioni meteo per oggi ok quali sono le previsioni meteo per oggi per la giornata di oggi sono previsti i rovesci e qui appunto vedete funziona molto bene rispetto appunto ai primi i primi Samsung Galaxy Voice è stato molto migliorato adesso ulteriormente con S5 funziona ancora meglio comunque attendiamo un aggiornamento di Android 4.4 KitKat che dovrebbe sfruttare ancora di più le potenzialità di questo tablet quindi è un dispositivo che si è comportato veramente molto bene durante i nostri test la penna dà un valore aggiuntivo anche il prezzo non è molto alto il display merita quindi nel complesso è un dispositivo che ci ha convinto se avete qualunque domanda potete scriverla nei commenti noi risponderemo come al solito per questo video vi è tutto un saluto da Vincenzo per Android Blog